A questo punto, alleluia, e perché ognuno è nel proprio campo, perché altrimenti io diventerei fisico, e non più pastore, io devo essere pastore non fisico, e manco un chimico. E allora, quindi come noi ben vediamo, lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque, ora lo sappiamo, amen gloria a Dio, alleluia, ora lo sappiamo perché lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque, perché lui stesso, con le sue particelle, a formando quindi l'idrogeno e l'ossigeno, ha dato inizio alle acque, alleluia, amen, ma prima che lui creasse le acque, formasse le acque, lui ha anche, mediante l'uranio, il plutonio, l'idrogeno stesso, l'ossigeno, perché tutti questi componenti messi insieme mescolano, fratello, ripeto, io riporto quello che ho ricevuto dal Signore, ma io non me ne intendo, quindi non posso io spiegarvi letteralmente come stanno le cose, però il Signore mi ha dato da capire che tutto è partito da lì, quindi queste particelle sono venute all'esistenza grazie alle sue particelle, cioè a quelle particelle che compongono lo Spirito di Dio, amen, gloria a Dio. Allora, ora allora noi vediamo perché, quando diciamo si formarono le acque, allora che cosa accadde? Alleluia. Che il Signore, ecco come hanno detto che la vita, dice, come hai detto tu che hanno detto? Si è originato tutto dall'acqua. Mediante, dice, scosse lecce, allora vi spiego ora come il Signore mi ha dato da capire, io nei culti precedenti, insomma, ho cercato di spiegare. Allora, vedete loro cosa dicono? Dice, mediante calore, mi pare che loro, perché mediante calore di questa energia elettrica che a contatto con l'acqua ha dato inizio alla cellula vivente. E quello che il Signore ha spiegato con parole un po' diverse, però il coso è questo. Perché, vedete, grazie all'esistenza quindi dell'uranio, del plutonio e sia poi pure, ripeto, dell'idrogeno, Allora, il Dio si è venuto a creare una potentissima fonte di energia. Amen? Una potente forza di energia. Quest'energia ha incominciato a emanare onde elettromagnetiche. E quindi, grazie a questa poi potente forza, diciamo, luminosa, ecco, formatasi. Fratelli, come va a dire? Io, siccome non l'ho visto, però più o meno, come quando fanno vedere la, come si chiama, a certe volte, quando danno quella notizia, quando esplosa lì la bomba atomica a Hiroshima, da dove è stato, no? Si vede quella specie di fungo. Fratelli, le irradiazioni, le bruciavano tutte cose, non so per quanti chilometri di distanza, e le persone in quelle zone nascono ancora difettose. Quindi, vedete, quella è una potentissima forza di energia che si è sprigionata, stava dicendo grazie, un modo da dire, ma non grazie, a, diciamo, a quegli elementi che hanno potuto, con i scienziati di rinforo, che hanno potuto fare la bomba atomica. E la bomba atomica, c'è l'uranio, il plutonio, queste cose dopo ci sono, fratelli. Ecco perché inizialmente, ecco, si è venuta a creare questa potentissima, è come fu, è come si è venuta a formare una bomba atomica. A me? Con questi elementi dello spirito di Dio. Ecco perché Dio fuoco consumante, il pruno si bruciava, il Montesina fumava, tuonava, e dice non si poteva avvicinare nessuno. Perché appunto, vedete, è questa, che si è venuta a formare, questa potentissima fonte di energia. Questa fonte di energia elettromagnetica, ha contatto con le acque prodottesi grazie all'idrogeno e all'ossigeno. Allora hanno incominciato a lavorare tra di loro. Amen? E nel, diciamo, lavorare tra di loro, interfacciavano e reagivano tra di loro. Allora, si è venuta a formare la cellula vivente, sempre per onta all'acqua. Amen, gloria a Dio. Ecco perché ora gli scienziati, vedete come gli scienziati ci confermono quello che il Signore ci ha spiegato? È vero o non è vero? Loro l'hanno detto che, quando il Signore mi ha dato da spiegare, che cosa mi ha fatto dire il Signore? Che nel fotoplasma si è venuta a creare la cellula vivente. È vero o non è vero? Vedete come la scienza stessa ci dà ragione? Amen, gloria a Dio. Questo per farci capire che, effettivamente, il Dio, per svelare i Suoi segreti, non ha bisogno di scienziati. Perché lui si usa pure di gente anaffabita come a me. Amen, gloria a Dio. Allora, ecco ora, vedete, la risposta il Signore mi ha dato. Fratelli, è questa risposta, sapete da quanto tempo io l'aspettavo? Alleluia. Che volevo fare? Signore, ma dici tu che lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. Ma queste acque, che cosa erano e cosa non erano? Ecco, vedete, l'importanza, gloria all'altissimo. Quindi, la terra era in forma e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse, sia la luce e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce delle tenebre e Dio chiamò la luce giorno e chiamò le tenebre notte. Così fu sera, poi fu mattina. Come il Signore ci ha spiegato altre volte che quando lui disse, sia la luce e la luce fu, lui generò Gesù, l'angelo dell'eterno. E infatti lui, l'angelo dell'eterno, dice sempre io l'eterno. Amen. Perché le sue origini sono eterne. Alleluia. Perché il Padre, cioè il Dio, lo ha generato subito dopo la sua stessa creazione. Io uso este termine, ma non è così che è. Cioè, quando lui si è dato il corpo semimateria. Lui, prima di iniziare tutte le altre cose, ora vedete, nel principio Dio creò i cieli e la terra, è un modo di esporre le cose. Amen. Ma, e guardate come effettivamente noi vediamo e si è glorificato il Dio, perché vedete, in modo tale che nessuno possa pensare che il fratello aveva una fantasia e inventa delle cose. Allora, nel principio Dio creò i cieli e la terra, è un modo di esprimersi da parte di Mosè, ma il Dio non creò i cieli e neanche la terra. Per dire, lui l'ha creato come successivamente noi leggiamo che il Dio creò, dice l'uomo, e lì creò maschio e femmina. Esatto, guardate dov'è. Per farvi capire, perché a noi quello che ci dicono di fuori, a me, a me personalmente, non mi interessa. Nel modo più assoluto, io li ignoro, quelle persone, chiunque esse siano. Allora, perché Mosè si esprimeva con parole sue, quindi in base pure alla conoscenza che aveva, al suo grado di istruzione. Amen? Glorie a Dio. Quindi, per quei tempi, però ecco la necessità dell'unto di Dio di questi ultimi tempi. Ecco perché il fratellino, quella volta, che gli hanno chiesto, dice, ma questo pastore che quando si sono sposate, ecco che il Signore mi ha dato sposare a quella coppia lì, dici, qui è questo pastore, dici, è il Mosè degli ultimi tempi. Sapete, nessuno ha apposto mente, ecco, il Signore gli ha dato quel giorno da profetizzare, è stata la macina lì, no? Gli ha dato da profetizzare per dire lui è Mosè degli ultimi giorni, perché il Signore si userà di lui come si usò di Mosè per dire le cose. Allora, lui, il Mosè degli ultimi tempi, com'è di Giovanni Battista che diceva che era l'Elia che doveva venire? Amen? Perché venne, dice, nello spirito di Elia, Giovanni Battista. Allora, quando il Signore l'ha fatto profetizzare a Dio fratellino, a me, nessuno se ne è accorto, neanche io non sapevo, ma, sì, io, ma, il Signore ci faceva di rara maniera, non lo so, ma, ecco, vedete, chi sa aspettare, che non è sollecito da cosa alcuna, come il Signore quando giunge il tempo, perché infatti il Signore ora mi sta facendo spiegare, o meglio, Lui tramite me ci sta spiegando, a cosa cancia? Il Signore tramite me sta spiegando quello che Mosè a quei tempi non poteva spiegare, perché non era né alla sua portata, né i tempi erano adatti. Amen? Loro è Dio. E allora, il fatto che è un modo di esprimersi di Mosè, che non bisogna prenderlo alla lettera, a livello materiale, e, guardate cosa dice qui, creazione dell'uomo e della donna, cioè creazione dell'uomo, e sempre capitolo 1, versetto 26, poi Dio disse, seguitemi attentamente, altrimenti non capirete bene quello che il Signore mi sta facendo dire. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine. Amen? Seguite attentamente. Allora, così Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. Che cosa vuole dire? Che cosa vuole dire? Dio li creò a sua immagine? Li creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Che cosa fa capire? Che Dio li ha creati, tutti e due in una volta, sia maschio che femmina, li ha creati tutti e due contemporaneamente. Invece non stanno così le cose. E' stato un modo di esprimersi di Mosè. Perché lui stesso poi successivamente spiega dettagliatamente come che la donna, il Dio l'ha creata per mezzo alla costola di Adamo. Vedete quindi che, ecco, l'uomo che vuole interpretare le cose con la propria mente, con la propria sapienza, senza la guida dello Spirito Santo, come esce fuori strada? Quindi la stessa cosa, perché poi, ripeto, successivamente, Mosè stesso, è sempre lui che scrive, dice come Dio ha creato la donna, che ha addormentato Adamo, che gli ha prelevato la costola e da quella costola ha fatto la donna. Amen! Vedete quindi qui come fa capire che invece li creò, a sua immagine, li creò maschio e femmina. Quindi ora, anche qui, questo, ripeto, quello che il Signore mi ha dato da capire, anche qui quando lui scrive nel principio Dio creò i cieli e la terra, è un modo suo di esprimersi. Amen! Ma non ha creato, come in quel caso, non li creò maschi e femmina, tutta una volta, pure qui, non è che Dio creò prima i cieli e la terra e poi disse sì alla luce, la luce fu. No! E dice perché? Guardate, questo, ripeto, è quanto, vedete che questo non è frutto di studi che io faccio, perché io, ve lo dico in verità, io non riesco a leggere molto. Io, fratelli, più una parere del sette, delle cose, non riesco a leggere, perché subito mi confondo a testa. Non riesco. Io sono negatissimo per la lettura. Amen! Quindi io, se dovessi fare degli studi, non sono capace. Allora, quindi, quello che il Signore mi ha dato da capire. Guardate. Poi Dio disse sì alla luce, allora, la terra era in forma e vuota, ecco, la terra era in forma e vuota come se lui facesse capire che Dio ha creato i cieli, la terra, sì, e l'acqua che lo Spirito di Dio ha leggiato sulla superficie delle acque. Vedete? Alleluia! Allora, la terra era in forma e vuota, le vene percoprivano la faccia dell'abisso e non ci sono